Grazie Daniele, ringrazio tutti voi, ringrazio Francesco Borgono per essere qui e per averci offerto una serie di spunti che sono secondo me molto utili a fare sì che, come diceva adesso il Presidente Scalea, la parola conservatorismo non finisca per essere triturata dalla dura legge degli hashtag politici, delle etichette che durano lo spazio di un mattino ma che su di essa si faccia una riflessione il più possibile occuata e seria che costruisca intorno a questa parola una serie di categorie culturali. Innanzitutto la cosa da cui occorrerebbe partire a mio avviso e mi pare che da questo punto di vista Borgonovo nel libro Conservare l'anima abbia immediatamente colto il punto è che il conservatorismo, la visione del mondo conservatrice così come si è sviluppata in occidente segnatamente in alcune culture, soprattutto quella anglosassone ma non soltanto, va oggi vista con l'accoppiamento della parola conservare a quella difendere. si tratta di una coppia importante perché conservare è un'operazione diciamo così che ha a che vedere con il tempo e con la durata, difendere è un'operazione di attivo contrasto a qualcosa e quindi configura un atteggiamento attivo, le due parole si richiamano reciprocamente, non si può conservare senza difendere, non si può difendere senza avere qualcosa da conservare, senza essere il terminale di una tradizione. E allora cominciamo da questo, conservare cosa? Borgonovo lo sintetizza nella triode classica del tradizionalismo e delle varie forme di conservatorismo occidentale Dio, padre e famiglia. Io sono certo che lui abbia letto e abbia, come dire, collegato il suo accoppiare conservare e difendere con quella poesia di Pierpaolo Pasolini, che non viene citato ma immagino che lui conosca in cui si danno i tre imperativi, difendi, conserva, prega, che è in fondo la versione del Dio, padre e famiglia nella accezione di una sfida, di una risposta a sfida. Qual è la sfida? La sfida è una cultura contemporanea che è dominata dal relativismo radicale, semplicemente dal nichilismo, che distrugge le connessioni naturali e storiche che formano la comunità. Quindi, Dio, padre e famiglia, difendi, conserva e prega. Conservare cosa? Dio, cioè la religione, cioè una visione del mondo, cioè un fondamento della comunità umana in un contesto trascendente. Per cui la comunità umana non è abbandonata a se stessa, l'illusione dell'autodeterminazione, ma è legata ad un principio e ad un destino. E' questo ciò che è all'origine del conservare. Conservare qui è proprio nel senso che non possiamo neanche dirci comunità senza l'origine e senza il destino. E quindi pregare non è semplicemente un fatto individuale, come ben sa chiunque diciamo frequenti una confessione cristiana, ma anche di altre religioni monoteistiche. Pregare è un fatto comunitario. La preghiera individuale è solo un lato della preghiera. La liturgia è il complemento dell'individuo all'interno di una comunità che si riconosce nel sacro e in un sacro in cui non c'è esclusione ma c'è un'inclusione totale. C'è l'inclusione totale perché è un fondamento universale quello della società. Difendere cosa? I frutti di questo fondamento della comunità. Frutti che sono esattamente il legame tra natura e storia. La storia non scissa dalla natura. Una comunità si fonda sulla natura. Quindi un conservatore non deve avere paura di pronunciare il termine natura e naturale. Per quanto riguarda la sessualità, per quanto riguarda l'etica, per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda anche l'economia che è legata alla comunità e che è appunto gestione della casa nel termine originale greco. Oikomia sono le regole che sono intorno alla gestione della casa. È nella famiglia, è nell'oikos che si fonda poi la società con le norme economiche, politiche, quindi le istituzioni che la compungono. Natura e storia. Quando la storia pretende di superare la natura, il fondamento naturale dell'uomo, per avventurarsi in una dimensione che oggi viene variamente, anche questi sono hashtag, viene variamente chiamata transumana, postumana, e che altro non è che il avvolto dell'ideologia del nostro tempo. L'ideologia del nostro tempo è transumana perché è antinaturale, perché è relativista radicale, perché è nichilista e quindi vuole cambiare l'uomo, ma questo transumanesimo non è altro che l'eredità della radice gnostica di ogni ideologia, quella che Eric Feigelin aveva individuato. Ogni ideologia si basa sull'idea gnostica, cioè sull'idea che la creazione è imperfetta e che l'uomo, sollevandosi, facendo una sorta di upgrade, sollevandosi a un livello più alto di conoscenza, di competenza, di illuminazione, può migliorare la natura umana. Da questo illustriismo derivano tutti i totalitarismi e deriva oggi l'illusione terribile della tecnoscienza che può cambiare o potrebbe e dovrebbe cambiare la natura umana e deriva la tecnocrazia che è il veleno del nostro tempo, non in quanto presenza abituale della politica, perché la tecnocrazia è una parte della politica necessaria anche, ma la tecnocrazia che soppianta la politica, lo scientismo che soppianta la politica sono l'estremo veleno gnostico della nostra società. Quindi da questo punto di vista ripensare la tria del Dio, padre e famiglia significa riallacciarsi a questo fondamento trascendente della società e riallacciarsi al legame saldo che non va spezzato tra natura e storia, tra natura e comunità umana, tra natura e istituzione. Cosa che oggi non è affatto banale né scontata, anzi ogni volta che si traduce nel dibattito politico viene aspramente contestata dalla cultura dominante siamo intimiditi continuamente se riprendiamo questo legame tra natura e storia, tra natura e istituzione. Quindi ben venga un conservare che sia un difendere. E difendere da cosa? E qui concludo, non voglio dilungarmi oltre anche se tu mi hai dato dei tempi e hai fatto molto male perché io lasciate a me stesso faccio la notte. Conservare da cosa? Da tutto quello che manipola la comunità e che io sintetizzerei nella parola potere. Il potere è una cosa necessaria? Sì. Diceva un pensatore in DOS del 600 che era da moto, James Sargenton, la sovranità è una bestia, una belva feroce che va donata. Quindi non si può fare almeno della sovranità, non si può fare almeno del potere, ma il potere è una bestia ferocissima che se lasciata senza guinzaglio tende a straripare ovunque. I poteri, il potere dello Stato, ma anche i poteri privati. Anche i poteri, oggi vediamo una commissione terribile tra, quasi inscindibile tra i poteri straripanti degli Stati, magari mescherati da scienza, da comitato tecnico-scientifico, da sapienti e competenti e grandi imprese private, oligopolisti e monopolisti che hanno fondato il capitalismo della sorveglianza, quello che viene chiamato il capitalismo della sorveglianza, cioè quello fondato sulla mappatura, tracciatura, profilatura del consumatore che diventa merce pienamente, lo è sempre stato, ma lo diventa anche formalmente e quindi i poteri pubblici e i poteri privati vanno sempre più intrecciandosi da loro in una micidiale unione che annulla ogni forma di libertà. Detto questo, se c'è qualcosa da cui mi distingo rispetto all'analisi di Francesco Berbono, ma lo sa, ne abbiamo anche parlato in passato, è ad abitare i rischi per il nemico dei conservatori in quella formula, secondo me un po' astratta, che si chiama neoliberismo, cioè vedere nel mercato, nella libertà economica, la concentrazione di tutti questi poteri invasivi. Chiaramente ci sono all'interno del mercato, possono sorgere i poteri invasivi, però va anche considerato che il liberismo, cioè la difesa del diritto di proprietà, la difesa del diritto di intrapresa, del diritto al lavoro come non diritto ad avere lo stato un lavoro, ma diritto a svolgere senza essere ostacolato e condizionato il proprio lavoro, senza essere strangolato da tasso, burocrazia, dirigismi di vario genere, è uno dei presidi, uno degli argini che non è buono per difenderci da questi poteri intrecciati, sia quelli pubblici e quelli privati. È il vecchio problema del monopolio, della monopolizzazione del potere che si pone sempre, rispetto al quale chiaramente il mercato non è la salvezza, ma può essere una delle componenti della difesa, che deve fare un conservatore, della struttura naturale della comunità. Nel segno, a me vi dice che una parola che troppo poco viene usata oggi e che andrebbe invece sempre ripresa, sussidiarietà, cioè autonomia delle comunità, a cominciare dal livello più piccolo, frammentazione del potere il più possibile, erigere una serie progressiva di argini che impedisca la formazione di poteri giganteschi, di poteri straripanti. in un filmico.